Due cari amici chiamati il lupo e il contadino, ditta ormai famosa, mi hanno chiesto un seminario e io ho scelto questo seminario qui, che parla di Dio e degli dèi, cioè di un problema che ci riguarda tutti, ma proprio tutti tutti, perché con Dio tutti quanti ci abbiamo avuto a che fare in qualche periodo della vita e tanti si aspettano di averci a che fare anche dopo. C'è comunque un problema sotto, nella nostra cultura tu Dio non puoi scegliertelo, devi prendere il Dio che ti dà una religione oppure un'altra, cioè un Dio che va bene a tante altre persone o a tante altre persone e tu devi adattarti. Sì, poi te lo puoi aggiustare un po' per conto tuo, in privato, te lo puoi immaginare più o meno buono o più o meno aggressivo verso altri, ecco così. Però sempre all'interno del quadro che la religione ti dà, che per esempio nel cristianesimo deve essere un Dio maschio, signore, imperioso, che ti richiede l'obbedienza a un sacco di comandamenti e si irrita un po', un bel po' se non obbedisci. Questo è il quadro, poi dentro te lo puoi aggiustare. La mia idea è che sarebbe molto bene se tu Dio potessi scegliertelo, se tu potessi sceglierti, cioè i tuoi dei, anche più di uno. Sono tanti, sono tanti, sono più numerosi delle religioni, ci sono più dei che religioni e sono tutti vivi. Vivi in che senso? Nel senso che ogni Dio è un enorme sistema energetico che funziona e dal quale puoi ricevere tantissimo se sai come funziona e come chiederlo. Di questo parlo nel seminario. Racconto storie di dei e non solo le storie dei miti, ma proprio le storie di come sono stati prodotti, di come hanno preso vita, di come sono diventati efficaci. Racconto il modo in cui entrarci in contatto, diventarne amico e poi do qualche consiglio su come fare la tua scelta, su come scegliere i tuoi dei in totale autenticità, in modo che corrispondano veramente a quello che per te è più urgente, più importante e al tipo di vita che vorresti condurre. Poi agiscono, poi agiscono. E certo l'argomento è eretico, su questo non c'è dubbio, ma oggi come oggi l'eresia, cioè il pensare un po' diverso, un po' tanto all'antica, ecco quando c'erano ancora gli eretici, l'eresia è la strada che dà le più grandi prospettive di scoperta. Ecco tutto. A presto.